Poca e spesso maleodorante l'acqua che scorre nei fiumi di Irpinia. Poca perché alle sorgenti i prelievi portano l'acqua in tutto il sud Italia e nella rete idrica con la brodo di Irpinia si registra poi l'emergenza. Ma non è di questo che vogliamo parlare oggi, vogliamo parlare dell'altro aspetto, dell'acqua maleodorante. Due sequestri nel giro di 48 ore di impianti di depurazione comunale restituiscono un allarme rosso. L'acqua che viene riciclata è inquinata. San Michele di Serino, addirittura i fanghi tal quali reimmessi nel ciclo. Ad Ospedaletto il sequestro di un impianto per la presenza di cloro, presenza elevata, presenza che doveva servire ad abbattere evidentemente altri agenti inquinanti. C'è qualcosa che non va, lo aveva capito bene qualche anno fa la procura di Santa Maria Capoavetere quando scoperchiò il pentolone dell'onda nera. Così era stata ribattezzata l'inchiesta che aveva portato in numerosi comuni della provincia di Caserta a vedere come non ci fossero affatto impianti di depurazione, che ce ne fossero soltanto pochi. E in provincia di Avellino? Beh, paradossalmente ce ne sono troppi, forse molti. In alcuni comuni, pensate, di 3.000 abitanti ci sono anche cinque impianti di depurazione, Caserta e Avellino. Probabilmente dietro c'è lo stesso ragionamento, c'è un business, c'è un affare, lo smaltimento e il riciclo delle acque a Caserta, sempre per le stesse persone. In Irpinia forse bisogna accontentare un po' molte persone. Dietro questi sistemi poi c'è l'inquinamento e c'è la schiuma di rabbia dei cittadini che sono legati al loro territorio e che vedono ad esempio le morie di pesci. Ci sono poi i sindaci che non vogliono fare un affare. Perché, pensate, sforare un solo parametro delle acque di depurazione laddove l'ARPAC arriva a fare i controlli significa avere sanzioni amministrative per 3-4.000 euro. Moltiplicato 3, 4, 5 parametri sforati, ecco che sia un impianto di depurazione messo a norma, magari riacquistato, potenziato. E invece bene fa la Procura ad indagare sul tema ambientale, male fa la politica a non attivarsi laddove molti comuni potrebbero unire le forze anziché in un solo comune 5 impianti di depurazione, avere degli impianti di depurazione per bacini territoriali a servizio di una popolazione molto più ampia, soprattutto funzionante. I cittadini schiumano di rabbia anche perché accade nella vicina Benevento ad esempio che 34 sindaci che hanno rischiato il processo proprio per questi temi poi non siano stati rinviati a giudizio perché gli avvocati hanno dimostrato che quei prelievi fatti negli impianti di depurazione andavano eseguiti alla presenza anche di legali di parte e poi siamo nell'Italia della burocrazia e delle leggi da gabbare. Questo è il risultato e i cittadini ancora di più schiumano di rabbia. Noi invitiamo questi cittadini ad inviarci la loro schiuma, le loro immagini, quelle che quotidianamente registrate anche con telefonini sul campo. Perché? Perché il reato ambientale con la schiuma viene dimostrato. Non diventa più un reato solo di tipo amministrativo, insomma uno spreco di soldi, ma si entra nel penale e qui anche i sindaci cominciano a farsi due conti in tasca e a mettere mano alla depurazione. Insomma inviateci la vostra schiuma di rabbia e noi testimonieremo ancora una volta sul campo quella che è la situazione in provincia di Avellino dove, lo dice lega ambiente, un depuratore su due non funziona e allora è facile arrabbiarsi. Inviateci la vostra schiuma.